Prove di Osiride Squadra, bravo! Vai fuori la squadra avversaria! Squadra avversaria eliminata! Squadra avversaria eliminata e negativa Squadra avversaria eliminata Guardiano a terra. Tutti i nemici sono stati eliminati. La tua squadra è in testa! La tua squadra è in testa. La tua squadra è in testa. La tua squadra è in testa. Squadra avversaria eliminata. La tua squadra è in testa. Doppia uccisione! Sì! Tre abbattuti! Tutti i nemici sono stati eliminati. Questo è il punto decisivo! Sì! Sì! Grazie a tutti Squadra avversaria eliminata Versagli eliminati Congratulazioni, guardiani Ottimo lavoro Grazie a tutti Grazie a tutti